ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video sulla guida di cross out italiana allora oggi andiamo a parlare di questi famigerati moduli e armi ho deciso di dividere il video in tre parti proprio perché la quantità di armi moduli e possibilità è infinita e quindi verrebbe fuori un video da 15 ore e non avrebbe senso quindi cerco di portare diciamo in modo più sintetico possibile in tre video tutte le armi e tutti i moduli possibili applicabili insieme alle armi ora saranno divisi con armi e moduli base armi e moduli avanzati armi e moduli and game saranno tre video su questo quindi diciamo dovrebbe essere anche meglio e più ordinato quindi andiamo a vedere subito andiamo a vedere subito armi e moduli base ora tutte diciamo le categorie di armi ruote cabine decor vernici eccetera eccetera si suddivide in sei rarità common sarebbe comune quella bianca rara quella blu celeste è speciale epica è viola gialla è leggendaria e arancione è relic ora noi andremo a vedere la blu e la celeste la rarità bianca comune non la sto nemmeno a portare perché tutto ciò che dirò nella diciamo nella parte di rara e speciale varrà anche per la comune la comune solitamente ci si gioca molto poco cioè proprio all'inizio ci giochi quindi bando alle ciance andiamo a vedere subito tutti i tipi di armi si suddividano in categorie ora io mi sono qui appuntato qui accanto a me nel librino tutti i tipi di armi e ora ve le dirò allora le prime sono machine gun shotgun autocannon rapid fire machine gun frontal machine gun queste prime che vi ho detto sono tutte metragliette autocannoni eccetera eccetera che andranno tipo questa tipo la vector tipo la rapier lo sledge jammer andranno tutte ad utilizzare i moduli sempre sempre rari e speciali che saranno praticamente i radiatori radiatori cioè saranno i radiatori e questi cosa fanno praticamente aumentano il tempo di sparo delle armi invece magari di metterci cinque secondi prima di scaldarsi ne metteranno ne metteranno sette come vediamo ogni modulo richiede almeno un punto energia in questo caso questo radiatore aumenta del 50 per cento il tempo di overheating cioè il tempo di surriscaldamento oltre a questo abbiamo anche i cooler i cooler cosa fanno i cooler praticamente raffreddano molto più velocemente le armi ovvero quando noi utilizziamo un'arma arriviamo a piano piano a scaldarla quest'arma questo ci permette quando noi molliamo diciamo il fuoco ce la raffredda prima l'arma e quindi abbiamo disponibilità subito a risparare ora subito con un mio consiglio i cooler non sono molto buoni cioè i cooler diciamo sono meglio i radiatori proprio perché i radiatori riesce a sostenere uno sparo più lungo e quindi fare più danno in un minor tempo possibile oltre a questo abbiamo come categoria di armi cannoni e torrette a cannon cioè cannone a torretta cannon e turret cannon 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 e turret cannon praticamente sono dei cannoni che praticamente cosa sono i cannon sono quelli fissi i cannoni fissi che hanno come perc diciamo praticamente come come vantaggio di questi cannoni abbiamo più portata abbiamo una portata più lontana una velocità del proiettile maggiore e una precisione maggiore come contro abbiamo che quest'arma qui ha un grado diciamo un grado di sterzatura molto più più basso i turret cannon invece sono come questo i turret cannon che percanno i turret cannon hanno un danno esplosivo maggiore di dei dei cannoni dei cannon classici possano girare a 360 gradi come torretta però incontro hanno chi ha hanno una mira un aim time che si chiama aim time più basso quindi prima che diciamo la il più che si vede sullo schermo si chiuda ci vuole più tempo quello è l'imtime lo sparo quando è tutto aperto lo sparo può andare un po diciamo a caso e non preciso sul punto dove miriamo poi vedremo anche perché che hanno le armi celeste comunque passiamo al secondo ti al terzo tipo di arma che si può trovare drone drone will drone e turret cosa sono questi sono dei moduli i droni i droni diciamo a ruote e le torrette che non so se ci sono se ci dovrebbero essere per forza eccoli qui allora praticamente i droni sono è un modulo dove praticamente questo drone viene lanciato in aria segue la nostra auto e in modo automatico in modo automatico colpisce il bersaglio che hai più vicino sono forti fondamentalmente sono forti a bassi power score e vanno adattati ad una build che riesca ad andare veloce e utilizzi anche il clock che sarebbe l'invesibilità perché questo perché la tecnica diciamo per usare questi qui è non stare fermi avere una macchina veloce poter riuscire a scappare e diciamo non farci sparare addosso in una maniera assurda e comunque mentre li passi accanto il drone li fa danno in automatico questo tipo di drone è un drone celeste a mitraglietta solitamente i droni rari e speciali sono tutti a mitraglietta poi abbiamo will drone will drone praticamente è un modulo che noi portiamo dietro sempre con la stessa modalità della macchinina veloce noi praticamente cosa facciamo depositiamo quando vogliamo un drone su ruote questo drone su ruote automaticamente ingaggerà da solo il l'obiettivo e continuerà a sparare su quell'obiettivo finché non si distrugge il drone o finisce il tempo del drone il tempo del drone solitamente se non erro sono 9 secondi o 10 secondi questo tipo di will drone drone turret ecco vediamo anche la turret ho sbagliato turret la turret è uguale è comunque un modulo che noi poi ci portiamo dietro e lasciamo in terra praticamente depositiamo dove vogliamo noi una torretta fissa questo caso è fissa dovrebbe fare un pochino di danno in più dei droni che portiamo noi a giro però se sempre o sempre un aggancio automatico però di conseguenza questa è fissa quindi è possibile che la distruggano poi c'è più facile distruggere questo tipo di drone perché in terra fermo quindi un nemico può distruggerla veramente in modo facile ora tutti questi droni diciamo quando noi li portiamo a giro sul nostro modulo non abbiamo un diciamo numero infinito di questi droni da portarci dietro ma ne abbiamo come vediamo qui quattro pezzi per aumentare il numero disponibile per aumentare il numero disponibile dei dei droni c'è un modulo che però non so se non so se è speciale oppure è epico ah no è speciale si chiama genesis praticamente questo qui da il 25 per cento in più di numero di lanci del drone ovvero se ne abbiamo quattro ce ne da uno in più di solito questi qui sono esplosivi quindi se uno di questi moduli esplode dentro la vostra build vi fa un danno esplosivo di media non c'è bisogno di montarli al massimo se ne monta uno per avere cinque droni invece che quattro per ogni singolo modulo oltre a quello bisognerebbe anche portare il maxwell il maxwell cos'è il maxwell è un doppler è un radar detector praticamente questo cosa fa ti spotta i nemici nel raggio di 300 metri li vede anche se sono in cover diciamo se sono riparati entro 250 metri trasmette le informazioni ai nostri amici e nostri alleati nel raggio di 300 metri e rileva le mine che vedremo poi avanti cosa sono le mine entro 16 metri di distanza da noi questo perché perché i droni siccome hanno una aim automatica hanno bisogno di avere un radar per colpire più lontano soprattutto per gli wheel drone wheel drone le torrette diciamo che se sono nel loro raggio di azione e il drone volante se nel raggio di azione non è un problema ora torniamo ai tipi i tipi di armi oltre a questo abbiamo anche un guido rocket launcher lì un guido rocket launcher sono delle armi molto molto rotte un guido vediamo un po sono questi due questo tipo di armi fondamentalmente è molto molto forte perché allora prima di tutto abbiamo tanti pro e qualche contro che è molto pesante diciamo come contro questi sono dei lanciamissili non guidati ovvero te spari dove miri però non è che hanno che vanno a colpire sul bersaglio sempre possono andare un po diciamo a caso questo tipo di 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 lanciamissili lancia due salve cioè un missile e un missile e hanno un danno esplosivo esagerato questi hanno come vediamo bullet damage e blast damage il bullet è leggero c'è il colpo che ti arriva addosso è leggero ma il blast è gigantesco queste di conseguenza essendo molto molto forti hanno una durabilità bassissima cioè queste te le guardano te le levano ti disarmano veramente in pochissimo tempo ma tre di queste sono fortissime tre di queste io vi garantisco che se prendete una delle normali build da dietro la è completa completamente la esplodete la esplodete questo tipo di di armi che sono esplosive hanno tantissimi proiettili oltre a questo questo tipo di armi hanno tantissimi ammo reserve si chiama cioè tanti proiettili di riserva però comunque sempre è sempre come si può dire necessario cioè è necessario portarsi dietro una ammo box ammo box le ammo box cosa sono le ammo box sarebbero le casse di munizioni in questo caso noi quando mettiamo una cassa blu di munizione ci dà il 30 per cento in più di proiettili che l'arma in origine tiene attenzione a queste casse queste casse sono esplosive altamente esplosive quindi cosa fare cercare di metterle il più protette possibile dalle esplosioni dai proiettili diretti e magari portarne una sola perché fondamentalmente portarne due tre non ha senso perché non sparerai mai così tanti missili con un con una qualsiasi build passiamo un'altra categoria di armi le plasma emitter plasma emitter le plasma emitter cosa sono le plasma emitter sono una specie di di mitraglietta mettiamola così mitraglietta semi automatica raffica che spara delle palle delle sfere di energia o cinque penso siano anche per questa sono cinque sfere di energia che vanno a colpire il nemico e causano tanti danni infatti queste sono molto alte di power score proprio perché causano tantissimi danni sempre a livello energetico e sono ottime ottime per fare veramente danni in cabina i danni in cabina che questa crea sono molto molto più elevati dei danni che creerebbe sulle parti strutturali questa non ha bisogno di moduli cioè questa sono quattro punti energia e non ha bisogno di ammo box non ha bisogno di di radiatori non ha bisogno di niente questo tipo di arma qui questa la montate sopra alla cabina a modino protette e riuscite a sparare in modo tranquillo poi ci sono un altro tipo ancora di arma che addirittura è anche un altro stile ovvero le mili weapon le mili weapon cosa sono le mili weapon sono delle armi diciamo a contatto che hanno una future hanno una future che praticamente queste armi qui sono armi che hanno sono resistenti diciamo assorbano il 30 per cento invece che il 100 per cento del blast damage cioè dell'esplosione e resistano fino al 75 per cento cioè resistenti fino al 75 per cento ad impatto perché perché queste armi qui vengano solitamente montate su una build che praticamente si scaglia addosso al nemico e con queste armi qui viene praticamente il nemico viene completamente triturato i danni che fa sono molto elevati cioè sono comunque delle ottime armi però diciamo che a bassi power score sono un po' controproducenti proprio perché la tua build deve essere veloce quindi leggera e con poca protezione quando è sconsigliato cioè su quale nemico è sconsigliato ad andare con questo tipo di armi e soprattutto con chi ha i cingoli che vedremo in un'altra puntata poi dopo i moduli contro i cingoli perché perché i cingoli hanno un perk simile a questo ovvero resistano al 50 75 per cento di danno da impatto quindi te quando li vai addosso non li fai niente li fai pochissimi danni oltre a quello c'è anche la bad so che è diciamo leggermente più più leggermente più danno della del borer e poi ci sono le esplosivi esplosivi esplosive che praticamente cosa sono le esplosive sono delle lance proprio sono delle lance che noi montiamo sulla nostra build hanno un blast damage ovvero un'esplosione e fanno dei danni molto molto elevati l'energia consumata è un punto e sono molto fragili cosa cosa diciamo fa quest'arma quest'arma a te non fai altro che vedere un nemico usi il l'invisibilità ecco e te li vai addosso e queste lance appena c'è l'impatto esplodano rompendo la build del nemico più lanci hai più danno sarà elevato fino addirittura a completa fino addirittura a distruggerlo completamente cioè appena lo tocchi con 7 8 lance lo mandi a casa diciamo oltre a questi tipi di armi ci sono anche delle armi diciamo in categoria particolari che io le chiamo particolari perché comunque sono venute fuori dopo che praticamente sono sempre nella categoria melee weapon questa questa praticamente cosa fa col nuovo battle pass syndicate hanno aggiunto queste tempura queste praticamente cosa fanno sono una specie di di torcia per tagliare il ferro praticamente te li vai vicino con questa magari rammandolo no proprio andandoli addosso di cattiveria attivi queste armi queste sparano una specie di fiamma che dilaniano il nemico questo tipo poi ci sono oltre a questo ci sono le nail gun nail gun le summator cosa fanno queste mie pesie praticamente sparano dei chiodi il danno è da bullet cioè sono chiodi non sono esplosivi e hanno un perk se noi teniamo premuto fino al caricamento completo sparerà tutti e cinque tutti e sette i dardi diciamo i chiodi addosso al nemico invece che uno alla volta poi ce n'è anche un'altra che è small calibre vediamo un po se me la trova small cannon perché dovrebbe rimetterla nei cannon small, median, eccola qui questo praticamente cos'è questo è un cannone a colpo singolo di bassa con un proiettile più piccolo non è un cannone ma è un cannoncino diciamo che può essere un cannoncino a colpo singolo precisione altissima range praticamente prendi da una parte all'altra della mappa prendi nemici il danno è molto elevato il fire rate diciamo che non è altissimo però puoi sparare abbastanza oltre a questo c'è l'ultima che sono le revolve revolver le revolver queste sono abbastanza forti perché questo è un lanciagranate questo è proprio un lanciagranate a colpo singolo dentro all'interno della diciamo del caricatore c'ha sei proiettili quindi spari sei proiettili e dopo devi ricaricare per ricaricare questa qui ha bisogno del motore che vedremo nella prossima puntata comunque diciamo le ultime che vi ho detto le diciamo le particolari posso consigliare solo il revolver proprio perché ha un danno altissimo per il resto dipende dal vostro da come vi piace a voi lo stile di gioco non vi posso consigliare non vi posso consigliare io cioè dirvi questo è meglio di questo perché perché ognuno ha il suo stile di gioco io vi posso dire che all'inizio di quando ho iniziato a giocare mi trovavo molto bene con gli shotgun shotgun oppure shotgun a colpo singolo come possono essere i junk bow però diciamo che bisogna adeguarsi al tipo di arma che noi abbiamo se noi utilizziamo i se noi utilizziamo per dettili shotgun noi abbiamo bisogno di una build leggera ma che sia abbastanza resistente ma deve essere leggera perché noi dobbiamo avere agilità e velocità appositamente per arrivare addosso al nemico vediamo se sull'exhibition trovo un esempio di di shot di shotgun sledgehammer vediamo un po' questa è una delle migliori anche se è abbastanza alta ma come powerscore però l'idea è questa l'idea è questa di avere queste queste quattro questi quattro shotgun avere una macchinina abbastanza veloce e resistente e fare molti danni a chi trovi come giocarla questa qui praticamente questa qui non è che noi andiamo dal primo che arriva a diritto e lo uccidiamo noi dobbiamo cercare di aggirare tutti i nemici andare a prendere uno da solo andarli addosso e farli dei danni perché perché è questo il modo il metodo di gioco non puoi fightare con uno mentre fighti con un altro perché perché ti sfanno questa via un'arma che va usata in questa maniera qui oppure possiamo giocare un guider rocket launcher solitamente c'è una build un guider rocket launcher mettiamo wasp c'è solitamente una build molto carina questa tipo questa può essere un abbastanza decente per iniziare che riprende il tema dei carri armatini dei carri armati militari e questa via praticamente sa fa abbiamo questi volley ora questa li manca anche un punto generatore quindi non è che non spara però diciamo quest'arma qui ha un danno molto elevato perché questi sono solo due missili e per essere due missili e comunque i danni li fa ne fa abbastanza di danni non abbiamo il discorso che girano questi quindi sono omnidirezionali questi sparano praticamente a diritto oltre a questo anche i plasma emitter sono abbastanza buoni plasma emitter synthesis vediamo un po vediamo un po vediamo una build che sia abbastanza decente che non faccio proprio schifo diciamo che possiamo prendere una build del genere no una bella del genere i danni sono molto elevati per per tipo di arma che è abbassi power score questi sono molti molti danni perché non difficilmente troveremo build difficilmente troveremo build con tanto tanti tanti hp eccola qui perditi questa è una build fatta molto molto bene perché perché questa build qui abbiamo la possibilità di essere velocissimi però io forse sono fuori peso no nemmeno dov'è 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 mi ha scappata questa build è carina perché comunque a parte che possiamo girare intorno al nemico e comunque sparare mirarlo sempre diciamo e oltre a queste anche da come vediamo è fatta la build sono separate le armi non sono in fila come per esempio questa quindi un colpo di cannone le può allevare due armi invece che una questa è consigliabile questa è una build che all'inizio io consiglio tranquillamente perché è molto forte può fare tanti danni oltre a questo poi ci sono tutte tutto il reparto delle machine gun e degli autocannone le machine gun machine gun come può essere la sinus che questa è molto forte alle sinus sono veramente veramente forti una macchinina del genere è fatta molto bene perché perché sei 5000 di power score e i danni che fai con una di queste mitragliette è elevatissimo quattro metragliette non c'è bisogno di mettere il radiatore e fai dei danni esagerati e questo è consigliabile però non è consigliabile avere questo tipo di build da usare come shotgun queste si utilizzano un pochino più con criterio cioè queste si bisogna sparare da lontano fare pochi danni ma continui se ti arriva uno shotgun in close range vicino si disarma in un millesimo di secondo oltre a questo ci sono praticamente le rapid fine machine gun che vengano similmente utilizzate agli shotgun vediamo un po' se c'è una build se questa questa va benissimo è già alta perché c'ha dei pezzi diversi ma il tipo di armi è questo che le rapid fine machine gun da lontano fanno schifo però in close range la quantità dei danni diciamo è molto elevata di perk eccezionali questa non ce l'ha però diciamo che rompe parecchio le build e le rompe parecchio perché comunque il la quantità di proiettili che spara è molto elevata e la cadenza è altissima oltre a questo ci abbiamo gli autocannon gli autocannon sono simili alle vector gli autocannon sono dei cannoncini questo però c'è anche un tipo di autocannon che è da scioppare questi autocannon praticamente non funzionano gli autocannon sono delle armi che si sparano in automatico ma non conviene mai sparare in automatico conviene a mettersi lontani diciamo camperare e cercare di hittare il nostro nemico da il più lontano possibile e cercando di sparare direttamente in cabina con un diciamo una cadenza di fuoco adeguata a non perdere la diciamo a non far aumentare lo spread delle armi come abbiamo visto ora questi sono molto molto forti da lontano sono danni altissimi e hanno una specie di danno esplosivo hanno un danno esplosivo cioè più diciamo corazzata la build più danni vedrete anche questi consigliati sia del raro sia del dello speciale oltre a questo vi faccio vedere il melee weapon che anche questo è io sono contro a questo tipo di armi perché sono molto forti però all'inizio cioè ve lo consiglio perché sono cioè vi fanno vincere le partite magari in una partita ne fai uno due da solo un esempio sempre di questo ragazzo c'è in tzou questa è una macchinina con questi quattro borer davanti e questi praticamente se fai vai addosso li vai addosso li stai addosso finché non esploda e uno l'è fatta andare andiamo a prenderne un altro gli fai subito i frame e le ruote poi li stai addosso cerchi di macinarlo il più possibile i danni sono elevatissimi non è consigliabile vediamo un po' se troviamo non so se questi c'hanno i i tremplo per esempio si questo c'ha un tremplo vediamo un po' se non è troppo alto praticamente i tremplo e i bumper fanno sì che quando noi li tocchiamo ok ora 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 lo prendo noi praticamente facciamo un numero basso di danno è un po' eccolo qui no troppo avanti il danno bianco che noi vediamo è praticamente fatto su un bumper i bumper come i cingoli hanno un perk che praticamente ci impediscano di fare tanti danni come vediamo ad esempio ora subito all'istante questo per ditte ai cingoli se io vado ad attaccarlo di lato ai cingoli non li faccio danno in più lui cosa fa? lui ora perché questo c'ha i missili sotto però non li faccio danno io perché il perk dei cingoli praticamente è che ti parano il danno da mili e da we oltre a questo ci sono anche gli esplosivi explosive che sono praticamente le lance si chiamano si chiamano boom altrimenti si chiamano boom questo tipo di ora io ho preso uno a caso eh però le lance sono queste praticamente queste sono le lance noi andiamo a giro con una macchinina così ci rendiamo invisibili prendiamo e andiamo al primo che passa e lo instant killiamo il danno sono elevatissimi ehm fanno smattare la gente però una volta che te hai finito diciamo le lance sei inutile sei completamente inutile alla squadra hai fatto magari una kill ma finisce lì non è un gioco divertente però boh c'è gente che si diverte io non lo so va bene detto questo ehm vedere il tipo di armi diciamo vedere il tipo di armi io ve l'ho fatti vedere vi ho detto come si utilizzano determinate armi e con cosa si accostano di moduli le determinate armi ehm diciamo che all'inizio ah aspetta i cannoni vi faccio vedere i cannoni per Zeus per non è per Zeus ma si chiamano non mi ricordo come ehm cannon anche questi io ve li consiglio cioè io io sono più per questo tipo di cannoni non i prosecutor ma magari gli altri gli altri cannoni prendiamo una build un pochino più base tipo questa una build si fa tantissimi danni i prosecutor sono del già della categoria speciale quindi i danni sono abbastanza elevati sono cannoni praticamente che non hanno ray cioè non hanno curvatura però sparano in modo abbastanza diritto e hanno comunque un danno esplosivo abbastanza elevato anche se non esagerato però insomma i danni li fanno voi da lontano riuscite a colpire la gente molto facilmente vi ve li consiglio ve li consiglio altamente e in più vi consiglio anche di provare ehm vi consiglio di provare anche i cannoni a torretta ehm Hulk i cannoni a torretta io mi ci son divertito per svariato tempo i cannoni a torretta praticamente riescano a girare su se stessi per 360 gradi sono lenti chiaramente non è che sono veloci a girare sono lenti ma riescano a girare a 360 gradi come vi dicevo se voi guardate la X nel mezzo ha un tempo di chiusura questo tempo di chiusura praticamente cosa fa? ehm rende più precisa la nostra arma se noi abbiamo una aim molto aperta il colpo non andrà dove noi miriamo vediamo un po' non andrà precisamente dove noi miriamo quindi noi dobbiamo cercare di rimanere il più fermi possibile e cercare di mirare ehm stando il più fermi possibile per non far aprire questa questa X ehm il danno esplosivo è molto elevato di quest'arma infatti i danni sono abbastanza alti esplosivi danni in cabina ne ha minori ne ha minori del cannoncino quello diritto e anche la mira è un pochino più diciamo sballata però questi sono comunque armi che sono molto forti per la categoria per il tipo di categoria che sono sono molto forti e molto consigliati soprattutto perché non è facile perderli non è facile perdere questo tipo di armi molto molto facilmente e quindi per me sono approvati sono sono ok oltre a questo io vi ho fatto vedere dovete cercare voi il vostro tipo di ehm tra virgolette il vostro stile di gioco se vi piacciono i cannoni se vi piacciono i cannoni prendete i cannoni se vi piacciono le machine gun prendete le machine gun e comunque vi invito sempre ad andare sull'exhibition e cercare il vostro la vostra arma che vi stuzzica le idee e provarla nell'exhibition più di questo non posso cioè non non posso dirvi altro perché comunque è molto soggettiva il tipo di build cioè il modo per come si gioca è soggettivo quindi per questo video è tutto spero di esservi stato utile e fatemi sapere nei commenti cosa non avete capito o cosa magari avreste bisogno di capire meglio io cercherò di rispondervi nel miglior modo possibile e mi raccomando mettete un bel like se vi piace il video nei prossimi video vedremo le armi epiche e leggendarie relic inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina e non perdervi nessun nuovo video sabato domenica e martedì io sono live martedì sera sabato tutto il giorno praticamente e domenica pomeriggio per la sessione di clan wars su youtube quindi venitemi a vedere vi aspetto in live ci vediamo alla prossima puntata ciao